Torniamo a parlare di Premiere Pro, parliamo oggi di alcune impostazioni avanzate, in particolar modo di come inserire un'immagine in sovraimpressione quando esportiamo il video con Premiere Pro direttamente dalla timeline. Dunque, nelle scorse lezioni abbiamo visto come impostare il codec video e il codec audio, ovviamente oltre al formato, al nome, alla directory di export eccetera eccetera. Oggi vediamo alcune impostazioni avanzate che si trovano in altre tab qui nel modulo di esportazione, in particolar modo nella tab chiamata effetti. Clicchiamo quindi sulla tab effetti e qui abbiamo a disposizione un lungo numero di effetti da applicare al video una volta esportato. Attenzione a non confondere questi effetti con gli effetti che abbiamo visto quando abbiamo lavorato con gli effetti video nella timeline. Sono altre tipologie di effetti, diciamo che sono cose che possono essere fatte contestualmente all'export del video. Non vedremo tutti questi video, non vedremo tutte queste opzioni quest'oggi, ci concentreremo su alcune che forse sono le più utili. In particolar modo in questo tutorial parleremo dell'opzione sovrapposizione immagine. A cosa serve questa voce? Serve ad inserire un'immagine nel nostro video da utilizzare per esempio come logo. Immaginate di voler brandizzare il vostro video e di inserire il vostro logo in alto a sinistra per tutto il video. Potete andare in timeline, importare l'immagine e poi esportare il video con l'immagine oppure potete fare questa operazione direttamente in fase di export. È conveniente farla in fase di export perché così evitate di dover creare più timeline differenti, una con logo, una senza logo o di accendere la traccia corrispondente prima di esportare eccetera eccetera. Abilitando questa voce, quindi sovrapposizione immagine, avrete la possibilità di importare un'immagine o meglio indicare a Premiere quale immagine volete stampare durante l'export. Facciamolo. Ecco qua abbiamo importato un'immagine, potete scegliere dove posizionare la nostra immagine. Prima di farlo magari rimpiccioliamola un pochettino dando una dimensione per esempio di 25 unità percentuali. Ecco qua, decidiamo di mettere questa immagine, non so, ad esempio in alto a sinistra o a destra, a sinistra va benissimo, via. In alto a sinistra. Possiamo anche riposizionarla con queste altre due variabili. Possiamo anche scegliere di rendere questa immagine leggermente trasparente, se vogliamo non renderla troppo invadente. Fine. Quando andremo ad esportare questa clip, la clip verrà esportata direttamente con il nostro logo posizionato qui in alto a sinistra e stampato indelebilmente nel file di export. Nel prossimo video tutorial vedremo invece come stampare il timecode nel caso in cui avessimo la necessità di condividere il video con altri collaboratori e avere dei riferimenti temporali uguali per tutti. Ma ne parleremo nel prossimo video tutorial. Per il momento vi ringrazio www.fabioambrosi.it, sito dove troverete l'articolo di questa lezione. Oltre all'indice con gli argomenti del corso introduttivo a Premiere Pro trovate anche il corso dedicato ad After Effects. Iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere i prossimi tutorial. Ci vediamo su Facebook. La pagina da cliccare su cui mettere il like è sempre quella. Fabio Ambrosi. Cercate e mettete un like. Al prossimo video tutorial. Ciao!